bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Tommaso Romaso Cespo e ci siamo di nuovo nella parte 2 dello spacchettamento, dello startaggio delle figurine, delle carte dei pokemon allora, che cosa minchia è? dunque perché è un sablaie, sablaie, un'energia, promette buono, golet, figo dopo abbiamo un dance parts, un basculine, sto culo, carta addestramento e sta merda che cos'è? abbiamo un timbure, onyx, questa o, o, raga, e mi è uscito onyx, onyx come mi fa uscire onyx? se ho preso uno delle più merde di pacchetti? perché tra l'altro tutto è merde e esce onyx, a caso? ho preparato anche l'altro, allora, un'energia un'energia speciale no, raga ma perché c'è? c'è Charlie quello di ci sono i pampers ma che merda chissà perché faccio così, perché mi piacerebbe, ma in realtà è una merda un cincar un cincar come cacchio si dà aaaah, un cimar due cimar un cadabra e adesso, ragazzi, apriamo mi pare non mi ricordo che pacchetto è va beh, ragazzi, insomma, abbiamo capito che i pacchetti oggi sono più fatti fregata fregata plasma abbiamo uno spiel ah, un monkey squirtle litwig qui abbiamo un polywheel di merda a me mi pare figo questo explode è potente, ragazzi ho visto molti video a cui dicevano che è molto, assai potente molto, molto, molto cioè, raga invece, va bene comunque io adesso aprirò il prossimo pacco essendo che io da tanto che cerco un crocodile e preghiamo speriamo che c'è vediamo abbiamo un durant del team plasma abbiamo un rayhorn a me mi pare figo abbiamo una gotita sigilli pip potente potente un time pole abbiamo un'energia e un'energia speciale dove ci sono i mix e adesso passiamo alle altre raga siete pronti preghiamo che mi esce crocodile buono sto uccello suanna susanna suanna mi pio per culo pure è voluto da un fossile misterioso omanite ma che merda questo mi pare dei vecchi helgie bay questo è l'evoluzione raga siete pronti ci sono rimasti gli ultimi tre speriamo che c'è crocodile preghiamo among us fungus che posso fare l'evoluzione e vaffanculo va bene ragazzi adesso prendiamo un altro preghia pre supplichiamo fino a quando non esce questo non mi alzo da qua vi giuro preghiamo preghiamo allora abbiamo un ledian ah un lediba sono evoluti un'energia ragazzi avete presente togepi mi è uscito l'evoluzione cioè togepi questo qua mi pare che è pansear energia non fate cassa sta roba che è una pianta pancabù però ragazzi sono rimasti pochi pacchi cioè pochi pacchetti del avete capito insomma sono rimasti pochi pacchetti siete pronti let's go energia ma io me ne faccio qualcosa urrattata no raga questa è questa è una merda cioè c'è due cucù ecco siete pronti herdier da lillipop e ste pal frost las pronti ti prego ti prego ti prego adesso e di che me ne faccio beh raga abbiamo quasi finito gli ultimi pacchetti ah e per chi non avesse visto l'altro l'ho fatto tanti minuti prima quindi pochi minuti prima perciò mi sono bloccato allora abbiamo un altro temple uno litteri che si evolve da remolade a un lamp ant così faccio evolvere litwig abbiamo una cliffhary addestramento trabis io mi sparo ok ragazzi siamo giunti agli ultimi o due o tre pacchetti mi pare e adesso siete pronti per gli ultimi pacchetti abbiamo un patrat lo scambio di energia dell'allenatore no ragazzi avete presente questo wish ok tenetelo da parte avete presente questo explode osservate bene da chi si evolve da low dread lo vedete non lui low dread e low dread a sua volta prima era wismur wismur coincidenze a me pare no ragazzi comunicazione pokemon già ce l'avevo oh raga è uscito di what l'evoluzione di joshua no palpito ah l'evoluzione di impol l'ultimo è ban il b raga preghiamo sono gli ultimi pacchi mi batte il cuore all'impazzata raga il cuore siete pronti ma sono gli ultimi allora abbiamo un clink scraghi io c'avevo scrafti tempo fa hell jim ah di nuovo le hitwick ma che merda di mi è uscito alla kazam c'è raga posso fare vedete cadabra se non vedete bene c'è abra questo è cadrabra questo è alakazam possiamo fare le parole magiche abracadabra alakazam raga mi è uscito il dragon la stessa vita e dallo stesso potere di crocodile preghiamo preghiamo dai è uscito l'ultimo pacchetto resistete resistete siete pronti bene allora let's go abbiamo un pampi un bel baltoi che non serve un cazzo un espion abbiamo un altro acromio solo questa volta brillante suinum gotorita e si adesso raga avete capito i cugli a strisce cioè tra tra e dragon crocodile tundro cx alakazam cosa vogliamo di più di antico explode cioè queste carte della madonna va bene ragazzi come al solito se un attimo che voglio farvi vedere che mazzo che mazzo come al solito ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like oppure iscrivetevi se non siete ascoltati iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video voglio fare una copertura con le carte bella ragazzi